ciao buonasera e ben arrivati alla nostra diretta che è stata al mare tante volte visto che siamo alla nostra vigilia di ferragosto giusto qualche secondo che qualcuno si accorga della nostra presenza e iniziamo subito con la live intanto vi svelo un po gli ingredienti che ci vedono presenti oggi abbiamo del lime del ghiaccio delle pesche congelate dello zucchero di canna della menta e del rum secondo voi che cosa prepariamo per festeggiare il nostro la nostra vigilia di ferragosto un bel mojito alternativo lo facciamo con la pesca intanto vi saluto un bacione virtuale a tutti per i nostri amici di instagram youtube e facebook sono in presenza qui a casa mia con degli amici perché dopo dobbiamo degustare il nostro aperitivo meraviglioso iniziamo subito a di guardare gli ingredienti prima cosa boccale asciutto perché dobbiamo dritare il nostro zucchero allora io farò come vi ho detto ho degli amici quindi farò il doppio della dose mi chiede per quanto riguarda le parti secche quindi invece di 60 grammi di zucchero ne metto giù 120 poi mi chiede di posizionare il misurino e di portare a velocità 10 per 10 secondi la nostra manopola quindi 10 secondi velocità 10 allora vedete questi fumi attenzione quando state tritando qualcosa che sia pepe o peperoncino adagiate sopra un falsettino scottex bagnato ed asciugato e bagnato e strizzato così che i fumi restino qua fermi e non vanno dispersi e magari possono farci venire qualche starnuto andiamo avanti ecco questo quello che voglio intendere quindi ammettendo qui sopra il nostro scottex umido quindi bagnato questi vapori vengono fermati dall'umido del nostro tovagliolo adesso il bimbi ci dice di riunire sul fondo con la spatola quindi l'abbiamo trasformato in un zucchero di canna a velo e si va avanti qua ci dice di mettere il lime se vogliamo pelarli a vivo oppure utilizzare il succo del lime e noi invece li peliamo a vivo quindi prendiamo coltello privatizziamo della buccetta che abbiamo intorno se invece volevate recuperarla la potevate tritare insieme allo zucchero con un pela patate andavate a togliere la parte questa verde e la tritavate insieme allo zucchero quindi avreste poi uno zucchero di canna aromatizzato alle verde lime quindi due ci dice due lime oppure se volete 70 grammi di succo di questo lime ok per chi si è collegato solo in questo momento stiamo facendo un mojito una variante di mojito perché lo facciamo con le pesche per coche una pesca buonissima matura ovviamente perché deve avere un po di sapore e se ancora non vi siete iscritti al mio canale youtube fatelo perché trovate anche altre ricette di questo mojito che abbiamo già caricato nel tempo grazie per i like che mi lasciate quindi due lime pelati a vivo e mettiamo giù uno e due si va avanti con la ricetta e mettiamo dei rametti di menta fresca ovviamente io le ho lavate ed asciugate questa menta ha un profumo meraviglioso ci dice circa 20 foglioline ce ne lasciamo qualcuno perché le mettiamo poi alla fine del nostro bicchieri si va avanti posizioniamo ancora il misurino e andiamo per 10 secondi a velocità 5 ok si va avanti intanto vediamo quello che abbiamo ottenuto perché così ci rendiamo conto quindi noi dobbiamo ottenere questa preparazione che diciamo non deve essere proprio tritato del tutto un pochino i pezzettini si devono sentire certo che se vi da fastidio allora in quel caso potete andare non a velocità 5 ma andare a una velocità leggermente più alta 460 grammi di ghiaccio quindi che cosa è che ho variato ho variato la quantità di zucchero e poi vado a modificare anche la quantità di rum adesso abbiamo messo 460 grammi di cubetti di ghiaccio ma io la variante qual è? è proprio questa adesso aggiungo della frutta congelata quindi le mie pesche per coche le vado ad aggiungere circa 230 grammi beh adesso ce ne sono andati due e due e cinquanta non importa se volete queste perché dopo magari ne faremo un'altra dose le potete anche mettere giù tutte perché sono circa 500 ok quindi potete raddoppiare praticamente il tutto quindi non ho messo tutti i cubetti di ghiaccio raddoppiando ma all'incirca qui ci vengono il doppio delle dosi non so se mi sono spiegata non ho aumentato 460 grammi per 2 di ghiaccio ma ho rispettato la quantità di ghiaccio mettendo poi la metà di frutta congelata vado a chiudere ancora con il mio coperchio misurino e vado per 15 secondi a velocità 5 perfetto il bimbi ci avverte che l'ha terminato con il suono e aspettiamo che si aprano i nostri braccetti adesso vediamo che cosa abbiamo ottenuto perché il risultato è quello che ci piace no? allora praticamente abbiamo una sorta di granita con il ghiaccio con le pesche surgelate e la menta che ci darà comunque questo odore inebriante per accompagnare la nostra frutta adesso qui il doppio del rum perché ho aumentato le dosi quindi se ve ne chiede 80 ne metterete molto probabilmente 160 e voilà si va avanti si chiude nuovamente il tutto e andiamo a mescolare per 20 secondi a velocità 2 anche se il bimbi vi dice velocità 1 andate a velocità 2 così che vi faccio vedere la velocità delle stesse lame riescono a farvi girare bene bene la frutta perché a velocità 1 avendo raddoppiato un po' tutte le quantità forse non aveva la giusta spinta ci siamo il bimbi come al solito sapete ci avverte quando sta per chiudere il passaggio con il suo suono avanti adesso prendiamo perché questa ricetta diciamo che va bene per circa due persone questa del libro diciamo del bimbi ma noi avendola raddoppiata un po' possiamo tranquillamente servircene per quattro come sto facendo io ok anche questo anche l'occhio vuole la sua parte quindi aspettate che questa fogliolina non mi piace la togliamo che è un po' giallina eccola tolta e poi si va ad inserire nella base del nostro bicchiere il nostro mojito ultimo passaggio quello di aggiungere poi c'è un pezzo di ghiaccio che non è andato a buon fine eccolo qua grazie per i like che mi lasciate soprattutto vi consiglio ancora di iscrivervi al canale youtube se ancora non l'avete fatto così che avete la possibilità di vedere tutte le ricette che abbiamo caricato fino ad oggi se avete qualche avete qualche dubbio o qualcosa mi scrivetemi più tardi vi risponderò adesso andiamo a mettere come ultimo ingrediente come vi ho detto dell'acqua tonica oppure della Schweppes come preferite bella fredda mi raccomando aspettate che vedo se avete una buona visibilità quindi qui non c'è una vera e prova grammatura ma andate un po' a gusto ok voilà e anche questa è fatta spero di avervi fatto compagnia e soprattutto volevo brindare con voi per un buon ferragosto e che vi dico qui con la mia amica Natalia vi facciamo tanti auguri di buon ferragosto da Teresa e da Bimbi come fare un bacio virtuale a tutti ciao ciao buon ferragosto alla prossima ricetta ciao 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 ciao